E' nato a Roma da genitori originari della provincia di Bari il nuovo questore di Chieti, Aurelio Montaruli. 58 anni, l'ultimo incarico alla Polfer del capoluogo pugliese, anche se vanta tanta esperienza nelle varie articolazioni della polizia. Montaruli sostituisce Francesco De Cicco andato in pensione. Le sue prime parole. Sono molto contento sia per l'incarico ma anche per la provincia per la quale andrò a ricoprire le funzioni di questore. Di conseguenza è mio auspicio che da parte della cittadinanza e per tale intendo non solo quella di Chieti ma di tutti i 104 comuni della provincia ci sia la massima fiducia nei confronti dell'amministrazione che in questo momento vado a rappresentare. Il nostro motto è tra la gente, il nostro motto è esserci sempre e non deve rimanere un motto, deve diventare una concreta attitudine dell'amministrazione e della Polizia di Stato. Massima attenzione ha detto ancora Montaruli per contrastare le infiltrazioni mafiose e la criminalità costiera. Per quanto riguarda le situazioni più critiche andremo nei limiti del possibile ad operare al fine di debellare o quantomeno ridurre gli effetti di queste organizzazioni di tipo criminale. Interessante infine l'intenzione del nuovo questore di creare un filo diretto con la popolazione. Mi piacerebbe dedicare un pomeriggio a settimana, ho intenzione per esempio il mercoledì pomeriggio di dedicarlo a questo, cioè fare in modo che i cittadini di Chieti e di tutta la provincia sappiano che c'è il questore che è disponibile, brevi contatti telefonici, ad ascoltare chiunque ovviamente per le tematiche che interessano la Polizia di Stato, certamente non altre. Quindi io sarei disponibile a creare questo momento di ascolto individuale anche col singolo cittadino ma ovviamente a maggior ragione con le associazioni di categoria.